Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondoro, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora, facciamo oggi lo stato del gioco di novembre che si preannuncia essere molto corposo e molto interessante per vari motivi. Di cosa parleremo? Parleremo brevemente dei video che ci sono stati sul canale in questo mese, parleremo delle nuove uscite del mese che ci attendono per i sistemi LCG, racconterò un po' questa bellissima esperienza che sta nascendo col gruppo Patreon, faremo una panoramica dell'incredibile numero di eventi che stanno nascendo nelle comunità italiane su Il Signore degli Anelli LCG e vi farò anche vedere quelle che sono le promo che saranno disponibili per gli eventi del prossimo anno, quindi tenetevi forte, e poi andrò a presentare quello che è il canale Discord di Dovera Gondoro, quindi insomma, di cose ce ne sono parecchie. Partiamo subito con i ringraziamenti, in modo particolare volevo ringraziare Dario, Filippo, Francesco, Luca, Marco, Niccolò, Niccolò, Nunzio, Pantaleo, Paolo, Stefano, Alberto, Robby, Fabio, Andrea e Paolo, perché loro sono i Patreon che stanno supportando il canale Dovera Gondor, con il quale tra l'altro stiamo facendo anche un bellissimo percorso di crescita nei confronti del gioco, ci siamo già trovati, facciamo delle serate, insomma, se qualcuno vuole saperne di più, tra poco vi racconto, e se vuole aggregarsi alla community, noi siamo più che felici di accogliervi. Allora, parliamo dei video del canale, brevemente, di cosa abbiamo trattato questo mese, sostanzialmente ci siamo concentrati su due tematiche del Signore degli Anelli LCG, che sono l'espansione saga, con la prima, il primo Prey True dell'Ombra del Passato, che tra l'altro è stata molto commentata e molto vissuta in live, e anche con la programmazione delle prossime due, Un Coltello nel Buio e Fuga al Guado, che ho già registrato, sulle quali sono già state fatte delle decisioni insieme appunto ai Patreon, la premiere di Coltello del Buio sarà la prossima settimana, lunedì o martedì, adesso lo decidiamo insieme, se siete liberi partecipate, perché è un momento interessante di live in cui si può commentare, poi le espansioni saga sono sempre davvero molto molto belle. Ho iniziato anche poi questa nuova rubrica dei giuramenti dei Roirrim, che andrà a coprire le nove avventure del ciclo Fan Made e Long Extended Party, che è stato tradotto in italiano e che è stato distribuito nelle scorse settimane, sono avventure secondo me molto belle, è una rubrica dedicata principalmente ai giocatori della prima era, ma non solo, avrà una cadenza mensile e quindi ci accompagnerà un po' in tutto il prossimo anno. Anche qui ho provato una nuova modalità di registrazione, come ho provato nell'espansione saga, spero che sia una cosa apprezzata, insomma, l'idea è un po' quella di andare a coprire un po' tutte queste attività. Ecco, andrò a ridurre il numero di video, attualmente sto pubblicando dai due a tre video a settimana, andrò un po' a ridurli, mi concentrerò anche su Arkham, che è un paio di mesi, sostanzialmente, che devo fare una campagna e registrarla, ma, diciamo, sono stato un po' piacevolmente investito da tutte queste novità, che tra l'altro vedremo anche tra poco riguardo al Signore Gnianelli, per cui ce l'ho lì, la farò sicuramente per gli amici che mi seguono per il tema Arkham. Arriviamo, tra l'altro a questo proposito ci spostiamo verso il tema delle nuove uscite, allora che cosa è uscito sostanzialmente in questo mese? Principalmente sono usciti Wolverine Storm e la Mojomania, se così si chiama, di Marvel Champions, non ci sono state uscite per il Signore Gnianelli, LCG, e siamo in attesa della pubblicazione, che attualmente è prevista a novembre, ma abbiamo capito che ci sono dei ritardi nei container, della campagna per Arkham Horror delle Chiavi Scarlatte, di cui in realtà abbiamo visto l'espansione investigatori, anche con l'unboxing in precedenza. Quindi, spostiamoci verso l'altro tema, il tema Patreon. Allora, come ho detto, ringrazio tutti coloro che si stanno unendo alla comunità dei Patreon. La comunità è in forte crescita, vi ricordo che tutti i contributi vanno in realtà al miglioramento della community, del canale, delle promo, delle avventure, quindi, come dire, se vi fa piacere entrare a far parte di questa community, potete partecipare, trovate un po' di link. Ripeto, è un'esperienza che mi sta piacendo moltissimo, si sta creando un bel affiatamento, un bel gruppo con il quale facciamo anche delle cose molto carine, molto particolari. Se volete più informazioni, sapete dove trovarle. Eventualmente le trovate anche in descrizione. Spostiamoci verso quello che è il tema caldo di questo mese, mese che ormai comincia a essere freddino, nonostante l'inizio, perlomeno qua al nord, di quasi tarda estate, adesso comincia a essere un po' freddino, ma è un mese molto caldo per gli eventi che sono in cantiere. Allora, prima di tutto partiamo dall'evento di Marvel Champions, che ci sarà domani a Milano. Non so se qualcuno riuscirà a vedere il video e ad unirsi, in ogni caso sappiatelo. È la conclusione di una campagna che è stata fatta con il gruppo milanese. Si giocherà in modalità epica e, come fatto anche per il Signore degli Anelli, poi condividerò un po' tutte queste informazioni, queste campagne, i set modulari esati e tutto, in modo tale che se qualcuno vuole replicarla, potrà farla. Se qualcuno vuole aggiungersi, mi scriva il prima possibile che vediamo cosa possiamo fare. Spostiamoci invece verso quello che sta succedendo a livello di community in Italia sul Signore degli Anelli, che secondo me è qualcosa di incredibile e sono contento di aiutare a fare questa cosa. Allora, partiamo dall'arrivo. L'arrivo è che il 25 marzo 2023, quindi esattamente quattro mesi da oggi, a Milano giocheremo l'avventura in modalità epica, i nove sono in movimento, che è un'avventura fan-made, che supporta fino a 36 giocatori su nove tavoli, nel quale lo scopo sarà un po' andare a scovare le voci che parlano del ritorno dei Nazgul, di aiutare Radagast a dare corpo a queste voci e a scacciare, a ricacciare a Mordor i nove cavalieri. È una quest molto bella, è stata giocata alla Con of the Ring, è tuttora in traduzione, sarà disponibile in italiano tra qualche settimana, per cui il primo grosso evento che ci aspetta al prossimo anno epico è questo, quello di sabato 25 marzo 2023 a Milano. Siccome la community è in forte crescita, abbiamo pensato a questo, il 14 gennaio, quindi segnatevi questa data, il 14 gennaio, in diverse città d'Italia eseguiranno aggiornamenti, ci sarà una giornata in preparazione a questo evento, nel senso che stiamo ragionando sul costruire degli scenari che giocati il 14 gennaio possono darci la possibilità di arrivare più o meno pronti al 25 marzo. Saranno tematici, saranno fatti in modalità campagna, per cui sarà possibile giocare a questi scenari e poi accedere ai nove suoni in movimento con degli vantaggi e degli svantaggi che abbiamo acquisito durante il 14 gennaio, che appunto sarà un evento, diciamo, fisico. Stiamo ragionando anche di farlo online, quindi non si disperi chi si trova lontano da community, anche se il mio invito è sempre un po' quello di crearsi la propria community per quanto possibile, ma lo scopo sarà proprio quello di giocare insieme per preparare questa avventura. In questo senso ci sono diverse comunità, oltre a quelle già attive di Milano e di Torino, che insomma hanno creato eventi negli scorsi mesi, ci sono altre comunità che stanno riprendendo o iniziando il gioco e per questo motivo sono più che felice di sponsorizzare i loro eventi che saranno rispettivamente. L'8 dicembre a Bologna. Ritrovo a Goblin Bologna intorno alle 3, un incontro a lungo atteso, un evento in cui sarà possibile giocare, partecipare, conoscersi. La comunità dell'Emilia Romagna è in forte crescita, come anche quelle altre che andremo a vedere, quindi chi dovesse vedere il video e volesse partecipare, trova il link che lascio al video. Più in generale, diciamo, il veicolo principale è il gruppo Facebook o il gruppo Discord che adesso andremo a vedere. Ricordatevi sempre che esiste anche il gruppo WhatsApp e anzi potete entrare nel gruppo WhatsApp Signore Gli Anelli Italia, dal quale poi sarà possibile entrare nei gruppi specifici. Quindi, primo evento per gli amici dell'Emilia Romagna e non solo, l'8 dicembre alle 3 al Goblin Bologna. Poi, ci spostiamo verso Firenze, dove sarà l'evento i fuochi di Firenze sono accesi, domenica 11 dicembre 2022, giornata dedicata al Signore Gli Anelli LCG per neofiti e non. Si ritroverà alle 11.30 al Magic Hammer di via Scandicci. Anche questo sarà un evento open, quindi chi vuole unirsi con un mazzo, con più mazzi, può farlo, anzi è caldamente consigliato di farlo. I ragazzi sia di Bologna che di Firenze che adesso vedremo di Padova si stanno mobilitando per costruire queste giornate, quindi se volete anche qui l'invito è quello di entrare nei gruppi e appunto iscriversi agli eventi Facebook, entrare nei gruppi che sono linkati in modo tale da entrare in comunicazione con la community, per cui Bologna 8 dicembre, Firenze 11 dicembre e poi infine abbiamo il Trovo dei Giocatori Veneto, quindi il sabato 17 dicembre alle 14.30 al Sentiero dei Draghi che si trova ad Este, a Casa delle Associazioni ad Este. Anche questo sarà un evento adatto a neofiti e non solo, quindi potete partecipare, amici veneti o anche che gravitano intorno al Veneto possono partecipare a questo evento. Tenete presente che in generale ci sono già un buon numero di iscrizioni, quindi non sarete da soli, anzi ci saranno più persone che di fatto si troveranno su Bologna, Firenze e Padova, diciamo e Veneto, Este per giocare insieme in preparazione a quello che sarà l'evento del 14 gennaio e poi quello del 25 marzo. A tutti questi eventi ci saranno disponibili delle promo che ho personalmente inviato ai vari referenti delle aree proprio con lo scopo di, come dire, invogliare e ingolosire le persone che vogliono partecipare. Tenete presente che ho ancora un set di promo e vi spedisco se volete supportare un evento nella vostra zona, quindi scrivetemi, fatemi sapere. E a questo proposito vado a svelarvi quello che è un po' il progetto, diciamo, comunitario del prossimo anno che ho accennato in un post su Facebook, cioè la creazione di un circuito organizzato di gioco. E per farlo sto costruendo una serie di kit di cui vedete in anteprima per la prima volta queste immagini del primo kit che serviranno a supportare il gioco delle comunità locali. Comunità locali che sono in ascita potranno contattarmi, io vi invierò queste carte e poi vi spiego qual è la logica di queste carte in modo tale che possiate fare eventi che siano supportati anche in termini di carte promo. Ora, l'idea di queste carte è quella di fornire ai giocatori delle prima era delle carte in alternate art, quindi delle carte extra, diciamo, con dell'arte particolare che possono sostituire le carte che già avete. Per i giocatori della seconda era, e questo è il tema di cui sono particolarmente orgoglioso, vi andranno a fornire carte che sono carte utili e fondamentali dei cicli che attualmente non sono previsti essere in ristampa. Quindi l'idea di queste carte è quella di fornirvi degli strumenti per poter affrontare meglio tutte le quest che invece usciranno con la revised edition. In più, ho deciso anche di aggiungere a questo kit per ogni kit che io penso possono avere scadenza trimestrale o quadrimestrale, adesso lo deciderò anche in base a quello che è l'interesse generale delle community, ma, come dire, già avere 5 o 6 community in tutta Italia che giocano è qualcosa di notevole a mio avviso interessante per il gioco stesso, quindi in ogni kit ci sarà anche uno scenario giocabile con solo le carte incontri del corset in modo tale che, diciamo, il kit possa essere ritenuto completo sia per aumentare la vostra collezione di carte sia per aumentare la vostra possibilità di giocare scenari. L'idea è proprio un po' questa andare a fornire ai giocatori della prima era qualcosa di nuovo in termini artistici e ai giocatori della seconda era qualcosa che difficilmente possono andare a prendere. Pertanto l'idea dei kit è proprio quella di fornirgli possibilità tematiche che vi aiutino durante il gioco. Questa è un po' l'idea. Io sono molto contento, molto gasato di questa cosa. Ci sto dedicando tanto tempo ma vedo che la community risponde in maniera molto positiva per cui spero che questa cosa vi piaccia. Quando sarà ora e sarà possibile accaparrarsi kit lo renderò pubblico cioè nel senso lo scriverò sui vari social e tutto sul canale Discord sul canale Patreon su YouTube per cui chi vede il video oggi ed è interessato stia con le antenne alzate. Spostandoci verso quello che è l'ultimo punto per tutti coloro che non possono non vogliono non riescono a partecipare a degli eventi fisici è da pochi giorni attivo il canale Discord di Dovera Gondor che vuole essere una piattaforma di confronto per i sistemi LCG quindi vedete a seconda dei vostri sistemi voi potrete entrare e segnarvi a qualsiasi dei sistemi che diciamo su cui il canale è concentrato quindi Signori Annelli Arkham e anche Marvel e potete trovare in questa piattaforma tutti coloro che sono interessati a partite online confronti chiacchiere insomma l'utilizzo del canale Discord dipenderà da quello che la community vuole fare io lo metto a disposizione l'abbiamo già usato con i Patreon per fare una serata dedicata è stato già usato da altri ragazzi della community per giocare online quindi l'idea è supportiamo supporto il gioco organizzato nelle varie community e per chi non può non vuole o vuole diciamo oltre al gioco di community anche partecipare online ha la possibilità diciamo di giocare ai vari LCG c'è anche questa piattaforma Discord ovviamente è gratuita potete entrarci segnarvi e troverete persone interessate a partecipare qual è lo scopo di tutto questo ora in tanti miei video io dico sempre che è molto bello con gli LCG fare comunità cioè partecipare a questi eventi epici nei quali appunto ci si ritrova magari persone che si vedono solo agli eventi epici ma che vivono una giornata o più giornate e qui chi ha orecchie per intendere intenda una giornata o più giornate in cui si vive insieme il gioco in maniera comunitaria quindi tutto questo sforzo che sto facendo principalmente per il Sione degli Anelli LCG è rivolto a questo creare delle comunità locali di gioco che possono divertirsi localmente ma che possano anche se vogliono partecipare ad eventi epici in giro per l'Italia che a mio avviso sono il vero valore aggiunto dei sistemi LCG rispetto ai semplici board game vado a concludere il mio sforzo principale è legato al tema del Signore degli Anelli LCG se ci fosse qualcuno che vuole fare qualcosa del genere anche per Arkham e sfruttare un po' quello che già esiste su Dovera Gondor mi contatti perché a parte mia c'è massima volontà ma poco tempo perché ovviamente oltre alla vita il canale si sta concentrando principalmente su il Signore Ianelli LCG e la Revised e le community che stanno nascendo ora io spero che questo video vi sia piaciuto con tante succose novità fatemi sapere che cosa ne volete nei commenti se vi fa piacere partecipate iscrivetevi al Patreon di Dovera Gondor che è un modo ulteriore per vivere la community più in generale io vi ringrazio sempre per quanto seguite il canale siamo arrivati a 490 iscritti io non mi sono dimenticato che avevo promesso un giveaway per i 200 vi avevo anche spiegato in uno degli stati del gioco che attendevo qualcosa dall'America che non è ancora arrivato nel frattempo siamo arrivati a 500 iscritti quindi insomma capisco che qualcosa a breve dovremo farlo anche se non è quello che avevo in mente perché al momento attualmente ho alcuni problemi di approvvigionamento dall'America per quello che avevo in mente comunque lo faremo con questo colgo l'occasione di nuovo per ringraziare tutti ci aggiorniamo nei prossimi video in settimana con la compagnia dell'anello un coltello nel buio che spero vivremo insieme in chat comunitariamente grazie ciao alla prossima